Ciao ragazzi, l'Udinese di Andrea Sottile è una delle squadre rivelazioni di questo inizio campionato di Serie A e oggi andremo ad analizzarne stile e tendenze di gioco. Partiamo, come al solito, dal sistema di gioco della squadra friulana che è di base un 3-5-2 dove più o meno per tutte le posizioni ci sono almeno due giocatori di buon livello e dopo andremo ad analizzare più nello specifico le caratteristiche di questa squadra perché l'Udinese di Sottile si basa tanto sulle caratteristiche dei suoi giocatori anche andando a giocare sia in fase di possesso che in un possesso in maniera asimmetrica e diversa per le zone di campo. I bianconeri tendono a costruire dal basso cercando di tenere il pallone e non andando subito verticale. Il difensore centrale Biol tende ad avanzare oltre la pressione degli avversari. Qua nella partita contro l'Inter infatti vediamo come siano Perez e Becao vicini a Silvestri il numero 29 invece al fianco di Wallace quasi andando a costruire con una struttura 2-2-2 con le due mezzali Lovric e Makenko più avanzati. A questa fase di gioco si aggiunge anche una buona qualità nel gioco con i piedi del portiere Silvestri il quale anche sotto pressione riesce sempre a vedere qual è il giocatore libero e a capire in base al movimento dell'attaccante avversario dove si va a creare lo spazio come qua con Dzeko che lo va a pressare e poi gioca appunto sul difensore lasciato libero dall'attaccante dell'Inter. Una volta che il pallone entra in possesso dei difensori dell'Udinese allora la squadra bianconera ha più soluzioni. Tendenzialmente non viene ricercato molto Wallace davanti alla difesa per andare a costruire l'azione piuttosto i centrocampisti spesso ruotano fra loro qua è Arslan infatti che agiva da mezzala a venire incontro e si cerca quella giocata dentro fra le linee per poi andare a trovare in particolare De Olufeu che a sua volta si abbassa per andare a giocare in questo caso fra centrocampo e difesa avversaria. Il numero 10 è un giocatore fondamentale per l'Udinese ha libertà di muoversi in tutto il campo e spesso proprio questa costruzione per andare a cercare una linea di passaggio fra le linee ha l'obiettivo di trovare il giocatore spagnolo e questo non succede solo contro i reparti di centrocampo composti da due giocatori ma anche contro l'Inter che si schiera con il classico 3-5-2 De Olufeu andando a sfruttare il movimento di Brozovic a correre verso la propria porta va a prendersi il pallone da Udoge proprio fra le linee di attacco e centrocampo nero-azzurre dalla lavagna tattica le situazioni che abbiamo visto fino ad ora con Biol che avanza vicino a Wallace a centrocampo e una volta che il pallone arriva a Becausi vanno a creare dei movimenti coordinati fra quinto e mezzala classici con Pereira che viene incontro e Lovric attacca lo spazio dietro di lui e soprattutto De Olufeu che invece viene incontro a giocare in quello spazio fra le linee per andare a ricevere il pallone dal numero 50 il numero 10 dopo 11 giornate conta 6 assist e 2 gol con delle medie molto alte di passaggi chiave a partita e dribbling a partita a quanto detto fino ad ora dal punto di vista tattico va aggiunta anche la parte di caratteristiche fisiche e atletiche dei giocatori dell'Udinese che sono sempre molto intensi e si muovono andando ad attaccare gli spazi con convinzione e velocità e mettono in continua difficoltà i difendenti avversari passando invece a squadre che cercano di pressare uomo su uomo l'Udinese anche in queste situazioni cerca di costruire magari cercando di attrarre il più possibile gli avversari contro la Fiorentina dove ancora De Olufeu scende e Biol è andato sopra la prima linea di pressione avversaria e dopo uno scambio e i movimenti coordinati dei giocatori bianconeri si va al lancio lungo che è un'altra soluzione della squadra di Sottil per Beto con De Olufeu che si muove subito a sostegno arriviamo ora alla parte di sviluppo che come vi ho accennato a inizio video è asimmetrica perché dalla parte destra di campo sul lato destro l'Udinese cerca di sviluppare in maniera più articolata quindi cercando combinazioni nello stretto fra la mezzala di qualità che può essere Lovric o Samarzic il quinto di centrocampo che è Pereira quindi un giocatore che sa giocare anche nello stretto e soprattutto le sovrapposizioni del difensore laterale in particolare Becao gioca in questa posizione e ha buoni tempi di inserimento e sovrapposizione situazione che ha portato al gol anche nella partita contro il Monza dove proprio il numero 50 andando a sovrapporsi e ricevendo la verticalizzazione di Lovric è riuscito a fornire l'assist decisivo per Beto dalla parte sinistra di campo invece la mezzala e il quinto sono giocatori con più qualità atletiche e fisiche rispetto a qualità tecniche quindi Makengo e Udoge in particolare che cercano sempre uno sviluppo diretto e verticale da quella parte il numero 13 con la sua grande velocità riesce spesso ad arrivare sul fondo per poi andare al cross quindi Ludinese sulla destra cerca situazioni più articolate con passaggi nello stretto i movimenti mentre a sinistra va verticale con appunto Udoge che riesce spesso ad essere efficace nell'uno contro uno in più quando la palla è da quella parte spesso il numero 37 Pereira entra dentro il campo con Becao che invece va ad occupare l'ampiezza massima dalla parte opposta anche qua contro la Fiorentina addirittura Pereira che si trova molto vicino a Udoge e Makengo passando dunque alla fase di un possesso anche qua l'udinese si muove in maniera simmetrica tendenzialmente cerca di stare poco sopra il cerchio di metà campo e a destra contro una difesa 3 è il quinto Pereira ad accorciare le distanze sul difensore laterale quindi qua su bastoni mentre centralmente Beto ed Olofeo rimangono in inferiorità rispetto ai costruttori di gioco nero-azzurri e a sinistra invece è la mezzala Manquengo ad andare a gestire il difensore laterale ed eventualmente il giocatore esterno anche dalla lavagna tattica vediamo meglio questa situazione con Beto ed Olofeo che gestiscono il difensore centrale e il centrocampista centrale Pereira che sulla destra va in pressione sul numero 5 e in particolare Lovric rimane dentro con la mezzala avversaria e Becao rompe sul quinto il numero 7 dei rossi dalla parte opposta invece la pressione avviene con Manquengo che pressa il difensore laterale Udoger rimane sul quinto e poi Wallace ha questa facilità di corsa per arrivare sui centrocampisti avversari situazioni molto simili che vediamo anche contro una difesa 4 con Pereira a destra che esce sull'esterno basso mentre a sinistra è sempre Manquengo ad effettuare questo movimento con inferiorità in mezzo con Beto ed Olofeo a gestire i due difensori centrali più il play questa struttura in non possesso non ha un'altezza particolare quindi spesso l'udinese si abbassa anche sotto la metà campo mantenendo più o meno questi principi anche se a volte può essere la mezzala ad uscire sul difensore laterale non sono delle uscite particolarmente codificate queste di quinto e mezzala anche se tendenzialmente appunto avviene quanto detto poco fa proprio in virtù di quanto detto fino ad ora l'udinese non è una squadra che mantiene particolarmente tanto il possesso del pallone cercando spesso di andare verticale ma in fase di non possesso è una delle migliori quindi è la diciottesima per tiri subiti a partita e una delle prime per contrasti effettuati proprio grazie alla sua grande aggressività e questi contrasti possono avvenire sia sotto la metà campo ma anche andando in avanti infatti sono buoni i tempi di uscita proprio nella pressione alta quindi con in particolare le rotture dei difensori laterali che riescono ad arrivare fino alla metà campo avversaria qua proprio la situazione che abbiamo visto prima con Pereira che esce sull'esterno basso Lovric rimane con la mezzala e Becao invece che va a rompere su Saponara con Wallace che invece ha facilità per arrivare sul play e i centrocampisti avversari e in più un'arma di questo udinese oltre a quelle che abbiamo visto fino ad ora è anche quella delle ripartenze infatti con squadra particolarmente bassa i due attaccanti De Olufeu e Beto Success rimangono più avanzati pronti a ricevere delle verticalizzazioni e poi partire per attaccare la porta avversaria e proprio considerate le caratteristiche dei giocatori sono efficaci anche sulle palle inattive quindi angoli e punizioni dove hanno segnato molti gol in questo inizio di campionato che sono un punto di forza importante per la squadra di Sottil bene ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate di questo udinese se riuscirà a mantenere questo andamento per tutto il campionato e in che posizione in classifica arriverà alla fine e noi ci vediamo una prossima analisi tattica